Tanta paura ma nessun ferito. È stata una mattinata particolare quella del 16 agosto in via Matteotti alla periferia di Barletta. Un barlettano di 36 anni già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari è stato infatti notato da alcuni cittadini mentre corriva per strada impugnando una pistola con cui è esploso alcuni colpi in aria. Immediata è stata la reazione dei presenti che hanno segnalato l'accaduto alla polizia di stato intervenuta tempestivamente sul posto. L'uomo rientrato nella sua abitazione è stato sottoposto a perquisizione personale estesa al suo domicilio. In corrispondenza del balcone dell'appartamento gli agenti hanno rinvenuto un bossolo di cartuccia calibro 9 mm corto che mostrava segni di una recente esplosione. Successivamente celata tra i cuscini di un divano è stata rinvenuta e sequestrata una pistola semi-automatica marca Kimar originariamente di libera vendita ed idonea per esplodere cartucce a salve di calibro 8 mm. La stessa tuttavia dopo un attento esame è risultata essere stata modificata nella parte della canna e della camera di cartuccia tanto da essere trasformata in un'arma comune da sparo calibro 9 mm corto. Rinvenute sequestrate anche tre cartucce inesplose. La pistola, priva di matricola di punzoni che ne attestino la conformità, è classificata quale arma clandestina. L'uomo, arrestato per detenzione di arma clandestina e sparo in luogo pubblico, si trova ora ristretto nel carcere di Trani.